Posseggio selvaggio, scale davanti alle chiese e ai palazzi della città che impediscono ai diversamente abili di raggiungere in assoluta libertà il posto che più preferiscono. Sono numerose quanto diverse le esigenze di un uomo disabile che troppo spesso ha difficoltà a raggiungere luoghi di svago ma anche luoghi di preghiera. È il caso ad esempio della biblioteca a Scarabelli, la cui ripida salita per accedere al portone d'ingresso e le scale che lo precedono impediscono al cittadino o al turista diversamente abile di potervi entrare. Nessun ascensore funzionante dunque nel luogo che custodisce l'indiscusso patrimonio culturale della città. Come può ad esempio una persona in carrozzina raggiungere un luogo dove vi sono delle ripide scarinate? Un'impresa che sembrerebbe infatti praticamente impossibile. Ma non è ancora tutto perché spesso il cittadino normodotato dimentica forse che lasciare la propria auto nel posto riservato ai diversamente abili o ancor peggio posseggiare lunghe marciapiedi di alcune vie della città non solo ostacola il disabile a muoversi in tutta sicurezza. Ma queste barriere diventano delle vere e proprie condizioni che rendono praticamente impossibile effettuare qualsiasi tipo di percorso che gli consenta in tutta sicurezza di raggiungere il posto designato. Sono parecchi i disabili che desiderano vivere non solo in una città a misura d'uomo ma che sia raggiungibile soprattutto a chi forse per troppo tempo ha avuto negato l'accesso negli storici palazzi, chiese e monumenti della città. Un tentativo che è stato portato avanti dall'amministrazione comunale che ha assirato il piano PEBA, vale a dire il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Un'iniziativa portata avanti dai consiglieri comunali Giovanni Magri e Valeria Laimo con l'intento di impiegare l'amministrazione a istituire una consulta sulla disabilità. Proposta poi naufragata durante lo scorso consiglio comunale del 13 aprile perché è ritirata durante la seduta. Una decisione che di certo non aiuta i disabili a superare una volta per tutte gli ostacoli della città.